Tratta di frammenti delle pitture murali, quindi affreschi, che narravano le storie di San Benedetto all'interno del chiostro del monastero di San Bernardo in cui dal 1936 ha sede il nostro museo archeologico. Il nostro museo è un ex convento olivetano molto importante, nato nel 1300 e a partire dall'inoltrato 1400 nel suo chiostro di cui oggi resta soltanto un'ala e mezzo che è poi l'ingresso del nostro museo fu realizzato un ciclo pittorico molto importante nominato anche da Vasari che andò ahimè distrutto per quel poco che se ne conservava alle soglie del XX secolo a causa del bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. In quella situazione emergenziale una squadra di restauratori provenienti da Firenze lavorò per staccare gli affreschi, quel poco che poteva essere recuperato dalla parete semicrollata del nostro ingresso bombardato della vicina chiesa di San Bernardo e questi affreschi sono poi rimasti per lungo tempo nei depositi della soprintendenza locale. Questo ciclo, che è un ciclo monocromo, quindi anche la particolarità di Marco da Montepulciano un artista minore che però viene citato da Vasari, che Vasari ricorda questi affreschi quindi è un ciclo che racconta le storie di San Benedetto che era il santo dell'ordine, anche se l'ordine è olivetano quindi è importante scoprire qualcosa che grazie a pochissime fotografie precedenti gli anni 30 precedenti quindi ai bombardamenti. Abbiamo per fortuna qualche immagine che ci aiuta molto a ricostruire l'idea di questo ciclo quindi poterlo rievocare, in parte ricostruire, in parte restaurare è un'importanza storica per Arezzo fondamentale. Ne abbiamo ritrovato le tracce e quindi le abbiamo ottenuti in consegna dalla soprintendenza adesso abbiamo avviato un progetto per il recupero, quindi un intervento conservativo ma soprattutto per la loro ricollocazione nel luogo di origine e il loro racconto. Quanto sono stati importanti l'archivio fotografico che prima lei ha anche ringraziato? Sì, assolutamente, è stato il nostro lavoro di squadra che si è avvalso anche del supporto di tanti archivi l'archivio storico comunale, così come l'archivio della Fotoclub La Chimera il cui presidente, oltre a mettere a disposizione tanto materiale già esistente ha fatto ulteriori ricerche e anche ingrandimenti, addirittura recuperando le lastre originali quindi è stato veramente un contributo prezioso.